ma è la nostra è la stessa solo che appartengono a due linee temporali diverse greve la rottura di questa clessidra potrebbe causare una distorsione temporale una frattura nella macchina che cos'è? è bellissimo ma cos'è? guarda che profilo è venuto questo è uno di quei meme che possono essere classificati come meme dal futuro che capiremo magari tra l'altro si per adesso non ha senso per ora sta a quinzo let's go denuncia a l'incardo denuncia a palle uomo denuncia a loop genetico ecco loop genetico questo è il padre del prof alzato il mondo si è fermato anche un'anomalia addirittura abbiamo generato Marco è il viaggiatore temporale un'anomalia nello spazio tempo il multiverso il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco